Internet del futuro. Smart Cities. Sanità 4.0. Robotica e intelligenza artificiale. Mobilità sostenibile. Al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa diamo concretezza al futuro grazie a una ricerca e didattica di eccellenza e altamente interdisciplinare nei campi dell'Information e Communication Technology, della Robotica e della Bioingegneria. Oltre 35 laboratori conducono ricerca di frontiera sulle tecnologie che stanno ridisegnando le nostre società. Elettromagnetismo applicato. Ingegneria informatica. Robotica e automazione. Ingegneria elettronica. Ingegneria delle telecomunicazioni. Bioingegneria. Per poter guidare la trasformazione digitale, la ricerca deve uscire dalle università ed entrare nella società. È l'obiettivo dei CrossLab. Cinque laboratori del Dipartimento dove confluiscono le tecnologie destinate a colmare il divario tra ricerca e applicazione. L'approccio dei CrossLab, altamente interdisciplinare, integra il lavoro condotto dalle singole aree di ricerca per supportare imprese e pubbliche amministrazioni nei processi di innovazione. Grazie al lavoro di progettazione e ricerca per dare concretezza alla transizione digitale, il Dipartimento dell'Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa è stato designato Dipartimento di Eccellenza dal MIUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca. Ogni anno circa 4.000 studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale e 200 dottorandi frequentano il Dipartimento e hanno l'opportunità di formarsi in un ecosistema unico, quello pisano, dove convivono a stretto contatto tre università, innumerevoli imprese e spin-off in grado di offrire importanti opportunità di collaborazione. Grazie a tutti.